ragazzi buongiorno nuovo video asmr macbang pasta con crema di zucchine forse l'ho già fatta forse no non lo so non mi ricordo i più assidui seguaci seguitori seguaci sapranno se l'ho già fatta oppure no la pasta qua nel piatto ok l'ho scaldata e la mangiamo insieme è troppo grossa questa pasta rigatoni forse non lo so formato troppo grosso però va bene ho messo troppo sale nella pasta sale grosso voi mettete sale grosso sale fino nella pasta a me hanno insegnato mi hanno sempre detto di usare la sale grosso nell'acqua della pasta quando bolle però è troppo salato le ho messe troppe tra i cucchiai sono troppi cucchiaini ok ok, ok, ok anche se troppo salata la mangiò lo stesso, non si spreca niente. Voi cosa mangiate di solito? Seguite una dieta, un'alimentazione specifica, magari perché fate palestra, vi allenate per qualcosa o per voi stessi basta, per la maratona, fate la maratona. Farò poi anche il video magari la prossima settimana perché oggi è già giovedì, quando vedete questo video non lo so, comunque farò il video dove passeggio per il paese, ovviamente in ASMR, ovvio. Me l'hanno richiesto due o tre ragazze, senza far vedere l'indirizzo, la via, le case, se riesco, negli altri, nella mia, nella quella degli altri. Perché non va bene, non va bene. Questo mi sa che sarà un video breve, però vabbè. Io devo mangiare meno pasta durante tutta la settimana se riesco. Siamo italiani, la pasta la mangiamo sempre, la compriamo sempre più che altro, ma mangiare troppi carboidrati mi gonfialo. E non va bene, diventa un palloncino, non manco il pieno, Moby Dick mi fa un puff, tra poco non passo più dalle porte. La crema di zucchina è buonissima. Cuocete le zucchine in padella, con un po' d'acqua, un po' di olio e sale, soffritto di aglio e di cipolla. Frullate le zucchine dopo che l'acqua sia asciugata. E questa è la crema di zucchina, non la mettete sulla pasta quando è cotta. Mascolate un po' di formaggio e grana se volete, se no io non lo metto mai sulla pasta il formaggio. Sono abituata così. Poco sale, poco sale nella pasta, nell'acqua più che altro, e anche nel sugo poco sale. Piatto pulito, finito vuoto. Adesso ci utilizziamo con un cubetto di cioccolato, di cioccolato fondente, della Novi, buonissimo. Ho comprovato mia nonna. Ho passato una notte da incubo, senza dormire. Bruttissimo non dormire di notte ragazzi, veramente brutto. Sto spiolato, sto cioccolato. Fondente, non lo amo molto. Due cubetti per la memoria, ma sto poco vuoto. Dicono che fanno bene, che facciano bene. Quindi, provate. Lo stomaco vuoto dovevo mangiarli appena sveglia. Però, dopo la pasta, qualcosa di dolce ci vuole. Anche se fondente non è dolce. Ma il cioccolato Novi è buono. Sono in mezzemani, che mi fa strano essere in autunno, fuori, al pomeriggio fa caldo. E stare in casa in mezzemaniche, uscire fuori in mezzemaniche. C'è gente in canotta, con i pantalogini. Ottobre, novembre, dicembre. Cioè, dicembre non saremo in mezzemaniche, però. Ottobre, novembre, c'è gente in mezzemaniche. Come se andassi al mare. Mi sento un po' troppo estiva per essere in autunno. Insomma, non va bene. Temperature strane, stiamo impazzendo. Il mondo sta crollando, cioè, siamo veramente impazziti. Stiamo rovinando il mondo con un sacco di detersivi chimici, un sacco di smoke, tante macchine, troppe macchine. Forse le auto elettriche sono meglio rispetto alle macchine che consumano solo perché il gas puzza la benzina anche. È buono l'odore della benzina, però, a me piace. Però fa male, consuma, costano anche care. La benzina, il gas, insomma il gasolio, costa caro tutto. Ultimamente costa tutto caro, purtroppo. Quindi vabbè, lasciamo perdere. Poi avete una macchina elettrica. Elettrica, elettrica, elettrica. Da quelle che si attaccano alla presa tipo cellulare sotto carica, insomma. È fantastico. Forse consumano di meno. Sono sicuramente silenziose. Forse si risparmia ad avere una macchina elettrica. Rispetto alle altre classiche, insomma, la 500, la Fiat, la Panda, la Punto. La Dacia, la Skoda, l'Octavia, la Nissan, eccetera, eccetera. Suzuki Swift, bellissima la Suzuki Swift. Il maggiolone, quello, la New Beetle. È anche il maggiolone antico. Bellissimo. Va bene ragazzi, oggi il video, per oggi il video finisce qui. A presto. Grazie.